Una notizia che ha sconvolto la quotidianità di ognuno di noi, la morte di due sorelline lascia basiti, interdetti? Lascia riflettere, sono quelle situazioni che nessuno di noi vuole vedere, non vuole sentire. Sono fatti che si generalmente colpiscono, però ne è successo e non dobbiamo prendere solamente atto. È chiaro che tutta la città è stata scioccata da questo evento, si è visto camminando per le strade. Credo che le persone, l'unica cosa che ho percepito è stato proprio lo sgumento dell'evento che nessuno si aspettava, nessuno si poteva immaginare una cosa del genere. È chiaro che però bisogna prendere atto che è successo e basta. Bandiere a mezz'asta al palazzo di città, stoppa la filodiffusione, le chiedo pure se ci sarà programmato il lutto cittadino? In ando questo è stato un attimo per insegno di rispetto di queste morte così giovani, di queste innocenti, che tutta la città credo che desiderava, almeno per quello che sono riuscito a percepire, per avere quest'attimo di riflessione interna, un attimo di rispetto per chi non c'è più. È chiaro che la vita continua, ancora la giornata non è stata, almeno non mi è stata comunicata quando saranno celebrati i funerali, però diciamo che credo non è questo importante. L'importante è che si prendi atto di quello che è successo e basta. Non evitiamo qualsiasi tipo di strumentalizzazione, qualsiasi parola, diciamo che è in più di quella che ho detto. Non ci sono parole per poterlo commentare, nemmeno per fare valutazioni che non hanno nemmeno senso. È il primo sentimento che ha provato quando ha saputo della tragica notizia? Ma credo che è il sentimento che hanno provato un po' tutti. Sono rimasto scioccato e non ho avuto nulla da ridire. Fra altre cose io conosco il padre, quindi la mia prima reazione è quella di mettermi nei suoi panni e devo dire che mi sono sentito molto male. Grazie. 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 Grazie.